Benvenuti nel cuore pulsante di Terra Amara, la sopopera turca che ha conquistato tutti noi. I prossimi episodi ci trasporteranno in un viaggio emozionale senza precedenti. La trama ha preso una svolta inaspettata, con Yilmaz e Demir che hanno trovato una tregua, ponendo fine a una rivalità che ha dominato la serie. Questa nuova alleanza ha aperto la porta a nuove possibilità, con Yilmaz che vede realizzarsi il sogno di una vita serena con Zuleia e un futuro luminoso per loro. Ma come spesso accade nelle sopop, la felicità è effimera. Un tragico incidente ha colpito il piccolo Kerem Ali, figlio di Mujgan, portando scompiglio e dolore. E come se non bastasse, un altro colpo di scena sconvolgerà Terra Amara per la perdita di un altro dei nostri amati personaggi che a causa di un terribile incidente stradale, perde la vita. Questa perdita lascia un vuoto incolmabile, con Zuleia devastata e la comunità in lutto. Ma, facciamo un passo indietro nella trama. E prima di cominciare però ho una domanda per voi. Vi siete iscritti al canale? Se non l'avete ancora fatto, fatelo subito e attivate la campanella delle notifiche. Il vostro sostegno è l'unico vero stimolo a darvi sempre nuove anticipazioni sulle vostre sopopera preferite. Grazie. E ora proseguiamo. L'avventura prende una nuova piega quando Yilmaz e Zuleia decidono di tentare nuovamente la fuga. Tuttavia, il loro progetto viene interrotto dall'intervento di Mujgan che scopre il loro piano e l'intenzione di Yilmaz di portare via Keremali dalla città. Feckli, profondamente deluso, decide di affrontare il giovane. La stessa notte, in un momento di riflessione, Demir si reca al cimitero, davanti alla tomba di sua madre. Qui, sommerso dai rimorsi, confessa, mi sono trasformato in qualcuno che non posso più riconoscere, costringendo le persone a restare con me attraverso minacce. Durante questa confessione, Feckli si avvicina a Demir, suggerendogli che se desidera veramente cambiare, deve agire senza indugi, non è mai troppo tardi per correggere il nostro cammino. Tornato a casa, Demir, ispirato dalle parole di Feckli, decide di concedere il divorzio a Zuley, esprimendo un desiderio. Che saranno poi le sue condizioni prima di concedere il divorzio? Voglio solo che Leila rimanga con me. Senza mia madre e senza di te, Leila è tutto ciò che ho. Zuley, commossa, accetta e il giorno seguente, insieme a Yilmaz e Adnan, lascia la villa. Mentre si allontanano, Yilmaz porta Zuley nel luogo dove ha in mente di edificare la loro futura casa. In un tenero abbraccio, Zuley sussurra, questa volta niente ci potrà fermare. Yilmaz, con un sorriso radioso, risponde, finalmente, la nostra vita insieme può iniziare. Una settimana vola via, portando con sé ulteriori liete novità per Yilmaz e Zuley, che immersi nella loro felicità, iniziano a delineare i piani per il matrimonio. Nel frattempo, nella dimora di Fekli, la dottoressa, lascia il piccolo Kerem Ali incustodito per pochi attimi sul divano, per andare a prendere qualcosa in cucina per il piccolo che aveva fame. In quell'attimo di disattenzione, il bambino cade dal divano, perdendo i sensi. Mujgan, presa dal panico per l'accaduto, si precipita all'ospedale con il figlio tra le braccia. Per Demir e Zuley, quel giorno segna un passaggio cruciale, si apprestano a recarsi in tribunale per formalizzare il loro divorzio. Demir, in un gesto di affetto, propone a Zuley di passare a prenderla, così da trascorrere qualche momento a giocare con il piccolo Adnan mentre lei si prepara. Ma la serenità viene interrotta quando Nazire chiama Yilmaz in ufficio per dargli la notizia dell'incidente a Keremali, senza però conoscere la gravità della situazione. Preoccupato, Yilmaz abbandona immediatamente la fabbrica, diretto verso l'ospedale. Mentre si dirige verso la clinica, Yilmaz lancia un'ultima, intensa occhiata a Cetin, uno sguardo di preoccupazione che ha il sapore di un addio. Nel suo affanno, Yilmaz non nota neppure la presenza di Zuley e Demir sull'auto al suo fianco che ha appena superato. Mentre viaggiano, Zuley e Demir notano l'auto di Yilmaz che sfreccia impetuosa e pensano che ci sia un'emergenza. Poco dopo, Yilmaz perde il controllo del veicolo, precipitando in un burrone e ribaltandosi ripetutamente. La scena che si presenta davanti agli occhi di Zuley e Demir è drammatica. Le immagini della tragedia sono state così forti che hanno portato alla censura da parte della tv spagnola Antenna 3 di alcune scene, sollevando molte domande. Gli appassionati si sono riversati sui social media, in particolare su Twitter, per condividere le immagini censurate e discutere delle parti tagliate. La scena dell'incidente di Yilmaz ha suscitato molte reazioni. Ma perché queste scene sono state rimosse? La risposta potrebbe risiedere nella crudezza delle immagini, ritenute troppo forti per il pubblico spagnolo. Sembra che nella soap opera turca Terra Amara ci sia in corso un cambiamento radicale dei personaggi. Infatti, dopo la perdita di un care Yilmaz assisteremo alla fine di altri personaggi di primo piano. Zuley e Demir, i due testimoni dell'incidente, si precipitano ad aiutare. Dobbiamo estrarlo immediatamente, esclama Zuley a visibilmente sconvolta. Demir riesce a salvare Yilmaz dall'auto in fiamme e, con grande sforzo, lo trascinano in salvo. Poco dopo, Yilmaz viene trasportato d'urgenza in ospedale, dove le sue condizioni appaiono critiche. Zuley, tra le lacrime, esprime la sua profonda gratitudine a Demir per aver salvato Yilmaz. Nel frattempo, Mujgan è sollevata nel sapere che suo figlio Kerem sta bene, ignara dell'accaduto a Yilmaz. Aveva passato la giornata con Fikret, condividendo un momento speciale guardando il mare e sentendo l'attrazione reciproca, ma senza confessarla. Al loro ritorno, la notizia dell'incidente li sconvolge, e si precipitano in ospedale. Lì, un vicino racconta a Fekli dell'eroico gesto di Demir, che ha rischiato la propria vita per salvare Yilmaz. Fekli esprime la sua profonda gratitudine a Demir, riconoscendo il suo coraggio. Fekli, dopo aver appreso la notizia, è devastato. In ospedale, un medico gli spiega la gravità delle condizioni di Yilmaz, sottolineando la necessità di una trasfusione. Fekli prega per la vita di suo figlio. Zuley, invece, è travolta dall'ansia e dal dolore. Ma Demir rimane al suo fianco, offrendo conforto e sostegno. Poi viene sedata da un'infermiera per aiutarla a riposarsi. Nonostante le circostanze, Demir rimane una figura di sostegno per tutti, dimostrando una forza e una determinazione inaspettate. Yilmaz non ce la fa, lascia Zuley a distrutta, che affronterà il lutto e la perdita, ma anche la speranza di un nuovo inizio. La sua relazione con Demir potrebbe prendere una nuova direzione? Scrivetelo nei commenti e fateci sapere cosa ne pensate dell'uscita di scena di Yilmaz, proprio ora che potevano vivere insieme i felici, lui e Zuley. Nella quarta stagione, vedremo nuovi personaggi entrare in scena, portando nuove storie e dinamiche. Vi invitiamo a rimanere sintonizzati per scoprire come si svilupperanno questi eventi. Grazie per essere con noi in questo viaggio emozionante attraverso Terra Amara. Se il video ti è piaciuto lascia un like e iscriviti al canale per non perderti le nostre anticipazioni su Terra Amara. Alla prossima!